Todorov scrive Noi abbiamo bisogno di essere riconosciuti dall'altro per esistere. Il bambino ha bisogno dello sguardo dei suoi genitori. Il professore esiste grazie ai suoi allievi. Gli amici si confrontano gli uni agli altri. Sia che cerchiamo di essere colti come loro simili, sia come differenti da loro, gli altri ci confermano la nostra esistenza. Ogni coesistenza è un riconoscimento. Io posso allora cercare di captare lo sguardo degli altri attraverso diverse sfaccettature del mio essere, il mio fisico, la mia intelligenza, la mia voce o il mio silenzio. Ecco, io credo che noi siamo stati visti e abbiamo guardato queste persone e le abbiamo guardate come persone, come individui, ognuno con la sua storia e con la sua unità. E questo credo che abbia fatto bene a loro, ma indirettamente abbia fatto bene anche a noi. E come senso di appartenenza a una comunità, della capacità che possiamo avere insieme di partecipare, di affrontare senza paura i fenomeni che attraversano i nostri tempi. Io lascio il microfono a Giulio, se vuole aggiungere qualcosa. Lo ringrazio. È stato per me comunque un piacere poter lavorare un po' qualche notte con mio fratello. Grazie. 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 Grazie.